Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV come sempre siete in tantissimi a seguirci al mattino presto alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa diamo un'occhiata come di consueto ai titoli delle notizie più importanti dei quotidiani Carlino Corriere, le edizioni di Pesaro Urbino Cominciamo dal Santo del Giorno oggi è San Marcellino, Papa il sole è sorto alle 6.06, tramonterà alle 20.05 il tempo previsto per la giornata di oggi è in evoluzione perché cambierà questo è il mattino, poi il pomeriggio arrivano le nuvole, vedete la notte la pioggia domani, domani giovedì è la giornata un po' più perturbata con una mattinata nuvolosa pomeriggio la pioggia anche se soprattutto nell'entroterra è nella collina ma continua il maltempo che poi arriverà in nottata domani anche sulla costa per poi tornare il bel tempo via via, man mano, graduale dalla mattina, le schiarite nel pomeriggio c'è vento, attenzione vento soprattutto in provincia di Pesaro Urbino nella giornata di venerdì poi le schiarite e tornerà il bel tempo anche per il prossimo fine settimana che è la vigilia praticamente del primo di maggio nuova festa, nuovo ponte allora parliamo di eventi lo facciamo con il resto del carino di Pesaro che mette in primo piano in apertura la fotografia di tanti ragazzini che giocano e tirano all'arco con l'arco ma c'è anche la notizia che il basket ha portato 22.000 persone nella città di Pesaro grazie ai tornei che sono stati organizzati tra Pasqua, punte del 25 aprile e quelli che arriveranno il primo di maggio altre 600 persone per i campionati italiani di tiro con l'arco alla palla di Pomodoro gli hotel praticamente sono pieni a Pesaro e ricco anche l'indotto poi il volle invece di spalla Maicicero parte col botto e straccia Trento in gara 1 volle i playoff di promozione e poi la cronaca con Ismaele le ultime fasi di questo processo su Igli e Mario in comba adesso l'ergastolo oggi in corte d'assise la sentenza per l'orribile delitto di Sant'Angelo sopra invece e ripartiamo di qua il dramma di quest'uomo che si trova in Venezuela dal praticamente dal 2015 dal settembre del 2015 questo uomo si chiama Luigi Federici ha 68 anni si trova rinchiuso dal settembre appunto 2015 in una prigione militare vicino a Caracas in Venezuela e deve scontare sei anni di carcere per aver comprato 57 uccellini amazzonici ora lì nel carcere fa l'ortolano ha la possibilità di rispondere al telefono e infatti il giornalista che ha parlato con lui il 25 di aprile ieri gli ha fatto qualche domanda e lui ha detto spero di poter tornare in Italia a settembre lancia un appello gli dice lui sono malato soffro di un'ernia inguinale e oltre di una gastrite che mi fa stare tanto male mi piega in due dice lui la pagina di Fano del resto del Carlino meglio il sole del carrello niente shopping delle feste centro commerciale di Bellocchi più vuoto del solito questa è l'immagine l'immagine del centro commerciale chi non lo conosce dirà beh insomma com'è messo in realtà sì è tutto tutto messo sotto sopra questo centro commerciale non è un gran bel vedere quando uno entra sembra di entrare in un cantiere aperto in effetti è un cantiere aperto perché stanno costruendo l'ampliamento quindi un altro capannone altrettanto grande per che penso verso la fine di novembre verrà inaugurato e quindi ci sono dei lavori in corso e guardate invece questa fotografia che ritrae il giorno del 25 di aprile l'uscita del pesce azzurro guardate che fila interminabile tutti in fila al pesce azzurro servite 1311 persone i nodi del commercio il nostro test sulla liberazione delle aperture e a proposito di liberazione quella dal nazifascismo ieri ci sono state le cerimonie in 200 al corteo a Fano la metà però si è fermata prima non ha fatto tutto il percorso i ragazzi del Grisli dicono i morti non sono tutti uguali partecipata commemorazione in città tutte le lapidi dedicate ai partigiani sono state rimesse a nuovo dal comune di Fano Montemaggiore non resiste in 5 si schierano con Aguzzi riteniamo questa proposta politica l'unica valida alternativa che ha calpestato la volontà popolare dunque continua la campagna elettorale ai colli al metauro per eleggere il nuovo sindaco si vota a giugno parte del comitato Montemaggiore resiste dunque scende in campo sono Emanuela Primavera Filippo Ruggeri insieme a Roberto Lauri Cristian Bellucci e Samuele Sanchioni tutti i soci fondatori dell'associazione appunto Montemaggiore resiste Da Fossombrone io contrasto il piano sanitario regionale Fratelli d'Italia ancora non l'ha capito Saverio Bossi replica Montalbini segretario del partito a Fano dovevate aderire alla nostra raccolta di firme per indurre il sindaco di Fano Seri a darci ascolto parliamo di sanità a Urbagna invece torna sabato e domenica prossimi l'evento Urbagna Fiore di Città che è giunto ormai alla 41esima edizione un evento che colorerà la città di Urbagna appunto di colori e soprattutto di profumi per uno dei grandi classici eventi della primavera cambiamo giornale andiamo adesso sul Corriere Adriatico in prima pagina una foto enorme gigante tutta la pagina quasi per l'ultimo saluto a Michele Scarponi il grande campione di ciclismo l'ultimo saluto l'addio tra due anni di folla con 6.000 persone e dentro le altre due pagine noi ne leggiamo una l'ultima volata dell'Aquila in 6.000 per dirgli addio due anni di folla scortano Scarponi verso il cimitero dopo i funerali al campo sportivo di Filottrano il cardinale Menichelli dice Michele esempio di generosità e sacrificio è un dovere di tutti ricordarlo la pagina di Fano il PD in soccorso del sindaco Seri Santa Croce avrà funzionalità medicina e chirurgia d'urgenza minardi lavora i pazienti oggi sono parcheggiati in corridoio si dovrà poter gestire anche i codici rossi su questo c'è un impegno anche del presidente della regione Ceriscioli poi la ristoratrice aggredita che racconta mi costituirò parte civile la titolare di amo e lievito questo è il nome del ristorante che ha in centro storico a Fano dice mentre lo arrestavano l'aggressore diceva te la farò pagare il locale ricordiamo è aperto dal giugno del 2015 e qualche mese dopo l'uomo si è trasferito al piano superiore quindi sopra il ristorante in tutto questo tempo i rapporti tra vicini sono stati tesi la titolare ha subito continua aggressioni sia verbali che alcune fisiche fino all'ultima di qualche giorno fa dove appunto lei è arrivata una bottigliata sul piede ma era indirizzata alla testa e una feroce lite c'è stata anche tra parcheggiatori abusivi qualche giorno fa al centro commerciale San Lazzaro a Fano insomma il giorno dopo è come se non fosse successo nulla tutto come prima sul piazzale del centro commerciale di San Lazzaro è riapparso persino l'africano fuggito dopo aver steso il connazionale quindi tutto è così come prima senza referto non è scattata la denuncia d'ufficio per fratelli d'Italia forzisti la situazione è intollerabile i non rifugiati parla il direttore della Caritas di Fano Angiolo Farnetti dice i non rifugiati si trovano costretti a chiedere l'elemosina spiega anche l'impegno nell'aiutare gli immigrati che sono dimenticati liberazione corteo da altri tempi tutti i monumenti tirati a lucido in tanti hanno seguito il sindaco nelle varie tappe i giovani si sono fermati invece alla resistenza da Pesaro dateci i vigili di quartiere dalle minacce al parcheggio Carducci alla Risse in strada Pantano resta alta l'attenzione sulla sicurezza ordine pubblico in prefettura il comitato affronterà pure la questione ospedale dopo il caso del Catana di quell'uomo che è entrato con la spada dentro all'ospedale San Salvatore cacciatori sono sempre meno sono in via d'estinzione nel 1990 erano 18.000 oggi sono la metà pesano la licenza che costa 700 euro e le divisioni tra le associazioni Roscetti Presidente della Federazione Italiana della Caccia dice restiamo la provincia capofila sentinelle per agricoltura e territorio sono rimaste poche le guardie venatorie la nostra federazione ne ha 150 volontarie a Urbino invece il cerimonialista Giuseppe Cristini che vedete in posa con il bicchiere il calice in questa fotografia guarda alla tavola e dice in sala il futuro sarà lo sharing che cosa è lo sharing potete leggerlo sul giornale di oggi in questa intervista che il Corriere ha realizzato all'instancabile Giuseppe Cristini dopo l'ONU il docente sommelier lancia la sfida e i consumatori e i ristoratori dice lui devono trovare un accordo ora mi aspetto giustizia per mio figlio siamo sempre sul Corriere mio figlio che non c'è più sul delitto di Ismaele Lulli i due accusati quelli che sono in carcere Meta e Mema rischiano l'ergastolo la sentenza è attesa in giornata la mamma sarà in aula la mamma è Deborah la vedete in questa fotografia qua e sotto il Corriere ricorda a conclusione di questo processo la storia è stato Ismaele sgozzato a 17 anni è gettato nel diruppo quel sangue indelebile per Sant'Angelo era il 19 luglio del 2015 due giorni dopo il doppio arresto dalla valle del Cesano un reality show quello di una tv olandese che è tornata a vedere come se la stanno cavando come se la sta cavando questa famiglia che dall'Olanda appunto si è trasferita a San Lorenzo in campo per gestire questo campeggio ormai questi reality vanno di moda si registra su tutto su gente che fa la spesa su gente che non pulisce la casa su gente che vuole vivere sugli alberi su gente che insomma qualunque cosa c'è un reality dietro tutto quello che facciamo è ripreso dalle telecamere e c'è questa notizia oggi che dai Paesi Bassi appunto sono tornate le telecamere di questa emittente di Stato olandese e per seguire la vita di questa famiglia Tammenga il campeggio si trova in zona Ganga e segna già quasi il tutto esaurito da maggio in poi l'ultima pagina della nostra rassegna stampa è quella di Senigallia un'auto distrutta nella notte c'è il sospetto del blitz di fuoco la Mercedes appartiene ad un fornaio lui dice mai ricevuto minacce non ho litigato con nessuno nelle vicinanze trovate tracce di liquido infiammabile indaga la polizia la rassegna stampa finisce qui vi ricordo il 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni anche con whatsapp foto video di qualunque genere dalla cronaca fino alle segnalazioni di cose che vanno o che non vanno noi ci vediamo stasera invece alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci a presto